Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti alla Rassegna Stampa, occhio ai giornali che dal lunedì al sabato va in onda qui sul nostro canale, canale 17 di Fano TV, visibile in tutta la Regione Marche, puntualmente alle 7, vi mostriamo le notizie principali che poi troverete all'interno dei quotidiani, il resto del Carlino e Corriere Adriatico, ma noi sempre guardiamo anche il calendario per vedere qual è il santo del giorno, come facciamo in questo momento, appunto sabato 18 gennaio è Santa Elisabetta d'Ungheria, il sole sorgerà alle 7.37 e tramonterà alle 17, vedete giorno per giorno guadagniamo qualche minuto sul tramonto, quindi cominciano ad allungarsi le giornate, andiamo subito nelle previsioni del tempo che per questo fine settimana non sono direi all'insegna del bello, anzi tutt'altro, è stato annunciato un inasprimento delle condizioni meteorologiche e così sulla carta perlomeno è e quindi per oggi il sabato è appunto il cielo è nuvoloso, molto nuvoloso, le precipitazioni sono vedete nella cartina sparse per tutte le Marche, tranne nelle basse Marche che il sole fa un po' capolino, però ci sono anche le nevicate, vedete abbondanti sui rilievi e quindi anche il limite delle nevicate passerà dai 1800 metri fino ad arrivare fino anche ai 700 metri in tarda serata, quindi in altezze a livello collinare, temperature in aumento le minime invece in lieve diminuzione alle massime. Fenomeni particolari, segnalate le foschie, quindi attenzione nelle prime ore della mattinata per questo fenomeno nei fondovalle e sicuramente che può creare qualche problema la circolazione, anche domenica vedete il sole fa un po' capolino sulla costa, però è dato per nuvoloso e a tratti anche molto nuvoloso, soprattutto sui rilievi, sul crinale appenninico e quindi le precipitazioni sono segnalate anche per domani e ugualmente domenica le nevicate al di sopra degli 800 metri come limite nevicate, ma più che altro sui rilievi appunto e anche le temperature in virtù di questo sono date in diminuzione nei valori minimi. Per lunedì anche qui un inizio di settimana non all'insegno del bello, cielo nuvoloso e molto nuvoloso come nel resto del fine settimana, le precipitazioni scompaiono, perlomeno non ci sono, spariscono nella fascia costiera e permangono in quella dei rilievi e del crinale appenninico, anche le nevicate continueranno nel centro meridione della regione, sopra come limite agli 800-900 metri, le temperature rimarranno stazionarie, la tendenza nei giorni a seguire la settimana sarà di instabilità nella giornata di martedì e poi farà un ritorno, ci sarà un ritorno a condizioni di tempo un po' più stabile. Bene, questa è la previsione, grandi linee per il fine settimana e anche un po' per l'inizio della settimana, il tempo è, questo è e quindi facciamocene una ragione. Partiamo subito con i giornali, andiamo nel Corriere Adriatico, la pagina di apertura di Pesaro, buche, strisce e marcia a piedi, le segnalazioni dei quartieri, siamo a Pesaro, i disagi per la viabilità al centro, tante le denunce dei cittadini, in un anno sono arrivati a 3.800 i casi. E poi saluti a rischio, polveri sottili, PM10, record di smog, due domeniche ecologiche, fanno, corre ai ripari, il sindaco emana un provvedimento che dovrebbe tamponare, pagliativo, traffico bloccato il 26 e il 2 febbraio, dopo vedremo nello specifico quali saranno le zone interessate da questo blocco. Per quanto riguarda il resto del Carlino, la fotonotizia è per Valentino Rossi che è stato chiamato a risarcire gli ex custodi della sua villa, licenziati, adesso dovrà dare quello che era il loro stipendio, gli arretrati, quindi Rossi condannato a risarcire. E poi l'apertura è per un'altra pagina che segna un dato impressionante, ubriaco da record, paura sulla 14, ieri c'è stato un incontro in prefettura per delineare un po' una strategia contro questa piaga dilagante, questo uomo guidava con un tasso di alcol 5 volte superiore al limite, fermato dalla postrada, addirittura non riusciva a reggersi in piedi fuori dalla macchina, veramente qualcosa di assurdo. Nella pagina invece di Ancona, sempre del resto del Carlino, anche qui Malcomune Mezzogaudio, ma non so fino a quanto, una città in buca, crateri anche in centro storico, pericoli per pedoni automobilisti, vedete qui dovremmo essere in Piazza Stamira, Occhecroce, quindi il cuore della città e vedete le scondizioni sono quelle, ma l'apertura è per un caso di meningite gravissimo, siamo a Senigallia, dopo vedremo la notizia nella pagina che riguarda Senigallia, ricoverata nel reparto di malattie infettive, profilassi anche per gli alunni della sua scuola elementare. Partiamo anche dalle segnalazioni sulle buche, sulle condizioni delle strade di Pesaro, quindi vedete qui c'è tutta una infografica nella pagina che riguarda questo articolo con numeri in tre anni raccolte circa 16.000 segnalazioni in tutti i quartieri, c'è anche un'app, un'app Pesaro Buche per segnalare queste condizioni, ma anche strisce pedonali inesistenti, ecco qui le trappole dei quartieri, nel 2019 la Mobility Pro sono arrivate oltre 3.800 segnalazioni, però risolto anche il 70% dei problemi, questo il dato, da case bruciate solo svolta a destra, più sicurezza per l'incrocio maledetto, teatro di diversi incidenti, per dirigersi verso Pesaro bisogna raggiungere la rotatoria di strada Montefeltro e tornare indietro, però la svolta a sinistra ha causato diversi incidenti in passato e quindi per evitare il prosieguo di queste situazioni pericolose si è pensato di evitarla. Emergenza, ubriachi alla guida, ecco intanto per riportarci al caso di attualità, vertici in prefetture, scatta una stretta in incidenti, sì in calo rispetto all'anno precedente, però è un dato risibile, veramente percentualmente non significativo, l'ha detto lo stesso prefetto, sostanzialmente il 2018 e il 2019 siamo sugli stessi numeri, però si impone una stretta, un giro di vite come si dice, più controlli, allora dove verranno effettuati questi controlli? Il prefetto dice che ci saranno lungo le direttrici principali, soprattutto nelle ore notturne, all'uscita delle discoteche, dai locali frequentati dai giovani, insomma in punti sensibili, teatro spesso, anche come ci hanno raccontato le cronache recenti di Sciagure, l'obiettivo è prevenire e contrastare chi si mette alla guida creando pericoli per gli altri. Spesso, lo ha detto anche il comandante della strada provinciale, Colantuono, ha detto che spesso i conducenti non conoscono le regole e mettono in atto comportamenti imprudenti e criminali, spesso anche, ha detto poi, sopravvalutando anche le proprie capacità e quindi poi succede quello che sappiamo tutti. Strade di sangue, anche il resto del Carlino dà la notizia, vedete qui nella foto sono ripresi tutti i protagonisti presenti al vertice, il prefetto, comandante della polizia stradale, ma anche della polizia locale e le altre figure, insomma guardia di finanza, tutti coloro che operano sulla strada e qui insomma numeri che raccontano il 2018 rispetto al 2019, vedete incidenti mortali, sì sono passati da 21 a 18, però i deceduti da 21 a 22, quindi insomma sostanzialmente anche i feriti non si spostano da quelle cifre, quindi l'emergenza c'è e c'è tutta e quindi bisogna correre ai ripari. La gastroenterologia, siamo a Pesaro, nel Marche Nord, ora è 4.0, più diagnosi e meno chirurgia, Rivera Banca dona sistemi avanzati per un valore di 350 mila euro, soddisfatto il primario Scarcelli e vedete qui un taglio del nastro con i direttori generali e anche Luca Ceriscioli, il presidente che inaugura questa nuova struttura, nuova dotazione. Eccolo qua dal resto del Carlino, riportato in prima pagina, in apertura viaggiava in A14 con 2,5 di alcol, non è questo signore che vedete qui a fianco, questo fa parte di una pubblicità, a fianco a questo articolo, è un fanese di 48 anni bloccato dalla stradale, non riusciva nemmeno a stare in piedi fuori dall'auto, ma gli agenti lo hanno intercettato e lo hanno fermato, adesso per lui scatterà la sospensione, poi il ritiro della patente, 10 punti di decortazione e via cantando, compagnia bella. C'è anche un precedente, se qualcuno se lo ricorderà, nel luglio del 2019 la polizia sempre autostradale del compartimento di Fano fermò un camionista e guardate che cosa c'aveva nella cabina del camion, vodka, birra, veramente di tutto, aveva pensate 3.3 nel sangue, veramente qualcosa, ed era un camion, immaginate voi che cosa poteva succedere se se ne andava a carte 48. Va bene, Vallefoglia, cambiamo tono di notizie, la casa di Oz abita l'inclusività, nella casa di Oz abita l'inclusività, educare con gioco e movimento continuano le attività di questa bella associazione, guardate qui questi partecipanti radiosi e felici di essere parte di questo progetto, anche per il 2020 questa bella realtà di Vallefoglia ha archiviato tante iniziative e quindi con il coinvolgimento di tutti e quindi forza ragazzi e bravi ancora. Fano, veniamo alla pagina dolente dello smog, per Fano raggiunge il picco storico e quindi il sindaco dispone due domeniche ecologiche saltati, battuti tutti i record storici del passato e quindi insomma questo provvedimento si è reso necessario, un provvedimento palliativo, tampone, chiamiamolo come vogliamo, però 26 gennaio e 2 febbraio, mezzi fermi. Qual è l'area interessata da questo stop, sia in entrata che in uscita, perché chi ha l'auto nel centro storico non potrà neanche uscire, dalle 9 alle 19 e l'area più o meno, se avete dimestichezza con il carnevale, è quella del tutto il centro storico, tutta dedicata al carnevale, ci saranno dei blocchi alla stazione, alla liscia, in via Roma, al ponte Storto, tanto per farvi capire, quindi tutto questo zona rossa, chiamiamola così, sarà interdetta al traffico. Due domeniche anche per vedere, anche per capire se questa iniziativa ha, come diceva anche l'assessore, ha una certa valenza, cioè se si raggiungono risultati e se è la strada giusta da continuare. Vedremo se porterà i risultati, questo stop alle auto auspicati dagli amministratori. Vedremo. È stata presentata la candidatura a Città Capitale Italiana della Cultura 2021, Fano appunto si basa in questa candidatura su archeologia, Carnevale e Città dei Bambini, tanti spunti ieri in Sala Verdi, lo slogan sarà Architetti dell'Umano. Però la questione del digestore è anche portata in evidenza perché non si ferma l'iniziativa di Davide Del Vecchio, referendum snobbato dal Comune, il Comitato quindi dice ora partono le diffide, non ci sono stati termini per l'ammissibilità del quesito, scaduto il termine, attacco a lega ambiente ma anche sugli scranni degli imputati ci sono gli amministratori e il Comune, tutto questo per Davide Del Vecchio e vedremo anche questo aspetto come andrà. Il resto del Carlino cita ugualmente lo stop, Fano ferma le auto, due domeniche di stop, questo è il calendario e queste sono le strade interessate da questo stop, se avete un po' di dimestichezza con la città di Fano basta leggere le strade e capite che è tutto il nucleo del centro storico. In via Montegrappa poi tra l'altro qui più o meno dove vi indico in questo momento c'è la centralina di rilevamento dello smog quindi si potrà vedere se questa iniziativa una volta che si avranno i dati porta i risultati che ci si aspetta tutti. Anche qui tripudio per Fano Capitale, un gioco di squadra e presentato anche il logo della candidatura che porta la dicitura Architetti dell'Umano. Carnevale unico nel 2021, Gian Marioli dice e anche Agnoli investire anche sulla federiciana però biblioteca federiciana non sarebbe sbagliato. Se l'asset è quello della cultura quindi bisogna battere tutti i tasti del pianoforte per far venire fuori una bella sinfonia culturale. Val Metauro, furti ora si sono dimezzati, guardia alta soprattutto per la droga, è un affossombrone, un focus appunto sull'anno, sull'amministrazione, qui vedete il comandante della stazione dei Carabinieri e la comandante della Polizia Municipale. Il confronto tra il 2019, l'anno precedente, chiesta anche la collaborazione attiva dei cittadini che sono sempre, come spesso dicono le forze dell'ordine, Polizia e Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, sono le sentinelle del territorio. Ieri però è stata presentata a Marotta una opera, un'infrastruttura pubblica direi dalla grossa valenza anche non solo pratica ma anche simbolica perché sarà un ponte, lo vedete qui in questo reading, adesso ve lo allargo ancora di più, ve lo faccio vedere, è questo qui, ecco, è un ponte sul fiume Cesano al di qua della ferrovia, è un ponte anche, insomma, dal punto di vista estetico accattivante, c'è questo arco sospeso in rosso e permetterà a questa pista ciclopedonale che vedete che si snocciola qui lungo la costa che sarà la ciclovia adriatica, una volta che sarà ultimata, di attraversare appunto il fiume Cesano e simbolicamente ma anche materialmente mettere in comunicazione dal punto di vista ciclabile le due province, la provincia di Ancona e quella di Pesaro, quindi ecco, questo è un po' il valore simbolico della cosa. Qui vedete Minardi ma anche il sindaco di Senigallia Mangialardi e qui Barbieri, ieri durante la presentazione e anche il Presidente e il Governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, che ha presentato l'opera complessiva, la ciclovia adriatica che attraverserà tutte le Marche, i 290 chilometri di costa marchigiana ma che si inserisce nel progetto della ciclovia adriatica che è un bel progetto molto ambizioso che dovrebbe collegare dal punto di vista ciclopedonale in un'unica striscia senza soluzione di continuità, pensate, Trieste e il Gargano e vedremo insomma se entro il 2025 dovrebbero già vedersi molti tratti realizzati. Eccolo qui, lo vedete ancora più ben raffigurato in questo reading, vedete ecco com'è, c'è la pista ciclopedonale che attraversa il Cesano e questo è l'arco dipinto di rosso per essere ancora più visibile. Larga 5 metri, costerà 2 milioni di euro, l'inizio del cantiere sarà per il 2021 e potrà essere appunto sicuramente un punto di grande interesse dal punto di vista turistico. Eccolo dalla prima pagina l'articolo di apertura, meningite e gravissima, una professoressa l'infezione batterica per una cinquantenne che è stata ricoverata al reparto infettivi di fermo e scatta la profilassi per gli studenti delle due E classi e Fabrizio Volpini, il presidente della commissione regionale sanità, dice la vaccinazione è l'unica difesa possibile, non ce ne sono altre e quindi è necessario vaccinarsi. C'è anche la cronaca, la cronaca che insomma alle volte fa anche un po' sorridere, pensionato custodiva la droga nel pollaio e quindi le galline anziché gli uovi tiravano fuori gli ovuli. E' un 69enne di Ostra, arrestato e condannato, sequestrato e pensate 30 dosi di cocaina e 490 euro. I carabinieri ricercano anche due marocchini che si dedicavano allo spaccio. Vedete qui insomma che cosa nascondeva nel pollaio anziché cose di diversa natura. A Urbino, via delle mura e scalette, il comune scende in campo per metterci in mano e quindi riqualificarle, sistemare due luoghi molto battuti soprattutto dagli studenti che arrivano al mercatale poi salgono alle facoltà e utilizzano queste famosissime scalette per arrivare in piazza Ducale. Il sindaco spiega anche come saranno sistemate e come saranno riqualificate. Sgarbi fuori dal comitato dei 500 anni, arriva Montanari, decreto però contestato, l'avvicendamento a pochi giorni dalla presentazione del programma, del calendario, delle celebrazioni Ducali, arriva questa gelata per il critico d'arte. Chiudiamo con i danni di Valentino Rossi e i suoi ex custodi della Villa. Gli avevano fatto causa per licenziamento illegittimo, sono stati sconfitti in primo grado, però sono risultati vittoriosi in appello. E ora dovranno ricevere dal campione di moto la somma di 34 mila euro. Vediamo in chiusura di Rassena Stampa, come sempre facciamo, le aperture dei giornali, questa è quella del Corriere Adriatico, buche, strisce, marciapiedi, le segnalazioni dei quartieri, tante sono le segnalazioni e i casi arrivati in comune per quanto riguarda questo problema. Siamo appunto a Pesaro, disagi per la viabilità dal centro alla periferia. E poi arriva lo stop di due domeniche per Fano per combattere lo smog e l'inquinamento da polveri sottili. Per quanto riguarda invece il resto del Carlino, ubriaco da record, paura in A14, guidava con un tasso di alcol 5 volte superiore al limite, è un fanese di 48 anni, fermato dalla postrada, addirittura non riusciva a stare in piedi fuori dall'auto. E poi, lo abbiamo visto adesso, gli ex custodi battono Valentino Rossi e si occupavano della Villa, licenziati, ora dovranno ricevere il risarcimento di 34.000 euro. Bene, questo è tutto per questa rassegna stampa, l'ultima rassegna stampa della settimana. Noi siamo qui tutte le mattine dal lunedì al sabato appunto alle ore 7. Siamo in diretta, ci potete guardare anche sulla nostra pagina Facebook se non vi trovate a casa. Quello che avete appena visto dalla regia è il numero in sovrimpressione che potete utilizzare per entrare in contatto con la nostra redazione, il numero è H24 a vostra disposizione. Questa sera non c'è occhio alla notizia come lo conosciamo tutta la settimana, ma c'è il nostro magazine 7 per occhio dove ci sono i fatti che sono stati così in più evidenza durante tutta la settimana, ma anche nel caso ci fossero accadimenti anche nella giornata di sabato o cronaca avrete comunque aggiornamenti anche su questo. Quindi 20.30 il nostro magazine e l'informazione torna quindi lunedì mattina alle 7 puntualmente qui da questa postazione per farvi vedere le pagine dei giornali, dei quotidiani. Grazie e buon fine settimana a tutti voi. Arrivederci. Grazie a tutti.